Mmm, cominciamo bene. Allora, vediamo se abbiamo fortuna. Bon, perfetto. Onion Mail è un server di posta pensato per funzionare sulla rete Tor. Però è strutturato in modo che tu non perdi la possibilità naturalmente di collegarti e comunicare con gli utenti internet in modo trasparente. È un progetto ancora, diciamo, in fase di sviluppo già utilizzabile e possiamo dire che è abbastanza carino. Utilizza SMTP per comunicare con la posta come tutti i server di posta però ti forza a usare POP3. È stata fatta questa scelta per obbligare l'utente a salvarsi tutti i messaggi sul computer in modo da non lasciare nulla di compromettente sul server. Utilizzano attivamente PGP e Tor. E poi il server ha anche un suo indirizzo come utente di posta perché al suo interno ha un bot che consente di inviare attraverso messaggi di mail alcuni comandi per le funzioni estese. Naturalmente, visto che c'è appena stata la presentazione di Tor2Web, passerò molto rapidamente la parte relativa a Tor spiegando che appunto essendo un hidden service di posta abbiamo la garanzia più o meno dalla rete Tor che non si possa sapere la posizione del server o dell'utente che sta utilizzando a livello di trasporto dati. Insomma, l'IP non si vede da nessuna parte. Oltre a tutto questo Onion Mail forza l'utilizzo di SSL a partire da 2048 bit. Quindi, la cosa che sembrerà un po' assurda è che stai utilizzando SSL su Tor ma ci sono diversi motivi per farlo. Tutti i sistemi di salvataggio su disco sono crittati e ogni informazione parte da dei dati di partenza e da delle chiavi che cambiano per ogni utente e tutte le informazioni sono salvate come hash. Quindi, i file dei messaggi degli utenti, delle mailing list, eccetera sono spezzettati in file e cartelle con numeri. Quindi, è anche difficile ricostruire partendo dal contrario l'informazione originale. Utilizza tantissime giri di, credo che siano almeno sette giri di crittazione AS256 per ogni file. Addirittura, su ogni messaggio ogni riga del messaggio ha una chiave diversa. È abbastanza paranoico da questo punto di vista. C'è anche un file di configurazione dove si possono mettere e togliere e cambiare gli algoritmi, ovviamente. In più, c'è una cosa interessante utilizza anche al suo interno delle chiavi pubbliche e private per crittare i messaggi delle caselle di posta che non sono le chiavi PGP degli utenti. Ogni mailbox al suo interno ha una chiave pubblica e privata che non è presente tipicamente sul server Onion Mail che stai usando ed è decrittata dalla chiave la password e la login di lettura dei messaggi e la password di login di scrittura dei messaggi che sono diverse. In questo modo, per bucare praticamente le caselle di posta è necessario avere tutte le password degli utenti e tutte le login degli utenti sia di lettura che di scrittura. Quindi se tu hai le chiavi del server non te ne fai niente perché comunque è criptato con una chiave asimmetrica per ogni inbox. E poi, le chiavi che vanno a criptare diciamo tutto il server non sono nemmeno sul server. Sono sul server solamente nel momento in cui lo crei ma tu puoi anche stabilire che partano da un server remoto di tuo controllo oppure possono anche non essere direttamente sul server attraverso le funzioni delle chiave remote FDX. I server sono federati tra di loro. Praticamente c'è tutto un sistema in cui i server si conoscono si scambiano i certificati e si verificano attraverso terzi continuamente se i certificati SSL sono quelli giusti se le chiavi pubbliche dei server sono quelle giuste se il server è su se è caduto se sono successe varie cose perché non c'è un centro principale di controllo che ti dà appunto commenti di certificazione. Allora io ho messo il nostro server on your mail di esempio sia a sinistra e a destra per essere più semplici. A sinistra quando parte il server crea degli elementi casuali che vengono mandati ad altri server i quali si inventeranno una funzione FIDX che il mio server non conosce le quali quando il server sarà attivato andranno a generare sul server originario la chiave di partenza. Quindi le chiavi sono sparse in giro per la rete Tor in altri hidden service. Queste chiavi però possono essere disattivate e riattivate da chi controlla il server attraverso il certificato di autodistruzione che se emanato così com'è darà l'ordine a tutti i server della rete di distruggere le funzioni FDX rendendo il server inutilizzabile anche se io non ho più controllo del server perché magari è stato rubato o perché magari non lo so è successo qualcos'altro. Con le chiavi il database degli utenti non è accessibile perché funziona tramite hash quindi non c'è praticamente. Si possono leggere le blacklist perché ogni utente ha una blacklist e lo spam ma non puoi associarle a quali utenti quindi al massimo si scopre che ti invia Viagra e Chalice si possiedono i certificati SSL se abbiamo decrittato completamente il server quella è l'unica cosa si possono forse salvare dei messaggi sulle inbox ma non si possono leggere le inbox perché non abbiamo la possibilità di decrittare le chiavi private delle mailbox degli utenti quindi non si possono leggere i messaggi non si possono leggere i metadati si possono leggere i contenuti delle mailing list in senso come lista di indirizzi dopo una serie di brute force abbastanza potente e si accede ai log del server ma i log del server sono se il server è stato attivato ha fatto amicizia con l'altro server il giorno tal dei tali oppure il certificato di quel server era scorretto quindi non ti serve molto poi si possono creare infiniti alias c'è un filtro anti spam per ogni utente io posso dire quella mail mi dà fastidio e a livello di SMTP arriva un errore e non ricevo più messaggi da quel server o da quello specifico indirizzo tutti i file sono cancellati con wipe quindi sovrascritti più volte per non lasciare traccia supporta nativamente le mailing list crittate e non crittate e tramite altri server onion mail di tipo diverso che sono i server di entrata e uscita riesce a comunicare con gli utenti della rete internet cioè se qualcuno da internet vuole mandare un messaggio a un indirizzo di post a onion mail glielo manda tranquillamente arriverà al server di entrata e uscita ci sarà una specie di cambio di indirizzo assolutamente trasparente e riverificabile e arriverà dentro la rete Tor e viceversa per esempio un'altra cosa interessante che dà il nome al progetto è proprio il fatto che siamo onion mail nel vero senso della parola quando l'utente invia quando Alice invia il messaggio verso Bob il suo server di posta non salva il messaggio su disco ma si connette al server successivo direttamente il messaggio è salvato solo sul server del destinatario se la transazione è fallissima c'è un errore a livello di client di posta questo per impedire di salvare sul server di mezzo un file compromettente che potrebbe essere utilizzato decrittato e aumentare le possibilità di decrittare il messaggio decrittare e di decrittare inutilmente il messaggio per avere un file temporaneo e sapere in tempo reale se il messaggio è arrivato oppure no la stessa cosa capita naturalmente quando noi inviamo un messaggio verso internet il server di posta di onion mail ha una lista di nodi di uscita che conosce e dice ok posso usare questo nodo di uscita e uscire con questo indirizzo e tramite un server che è tra la rete tor ed internet che fa il passaggio comunica e la cosa avviene anche in senso inverso naturalmente sotto vedete che c'è una notazione seguite l'ombra dell'indirizzo che è assolutamente molto lungo e naturalmente questo era un metodo vecchio che veniva utilizzato nel server onion mail di prima generazione il protocollo di traslazione dell'indirizzo fortunatamente adesso c'è un altro sistema che attraverso una verifica di chiavi gpg appunto del server di uscita è possibile negoziare una login sul server di uscita che è praticamente un alias che viene utilizzato per comunicare con la rete internet può essere utilizzato anche nella rete tor ed è sempre verificato così ci siamo tolti dalle balle quei 16 caratteri punto onion dell'indirizzo li vediamo ancora nelle intestazioni se vogliamo controllare ma nel from e nel to possiamo avere degli indirizzi potabili se se viene distrutto il server di uscita continua a funzionare tranquillamente il sistema dei nomi corti perché non passano per il server di uscita l'unico problema è che dovrai attivare degli altri nomi corti normali per andare su internet perché quel server non c'è più poi ci sono tutta una serie di funzioni che noi possiamo fare che non sto ad elencarvele tutte perché non c'è tempo per fare diverse cose con il server ottenere la guida il regolamento del server sapere quali sono i parametri ottenere un altro alias presso un altro nodo di uscita scegliere il nodo di uscita che più preferisco impostare la propria chiave gpg vedere la lista dello spam creare mail in list eccetera eccetera e anche creare un nuovo utente è tutto orientato alla privacy degli utenti ed è fatto in modo che il gestore a meno che non modifichi il software non possa sapere quali utenti ha e che cosa stanno facendo è una cosa che è basata praticamente sull'anonimato ci sono diverse limitazioni però nelle vecchie versioni c'era un solo destinatario per messaggio oggi questa limitazione non esiste più e non c'erano le delivery status notification perché quando succede un errore tu hai un errore a livello di client in posta anche questa cosa è stata aggiunta i messaggi rimangono sul server del destinatario se è un server on mail per un tot di giorni se tu non li leggi vengono comunque cancellati resta solo l'intestazione e ricevuto un messaggio dal giorno tal dei tali ma il messaggio non è più disponibile allora non supporta alcun sistema di intercettazioni i messaggi sono salvati solo sul server del destinatario si possono aprire più server indipendenti con un solo processo di on mail diversi da in service sulla rete Tor questo è quanto ci sarebbe molto altro da dire ma ho stretto i tempi al massimo perché comunque mi hanno detto che c'erano soltanto 18 minuti e questa è la presentazione praticamente finita l'unica cosa da aggiungere sulle nuove versioni è che sul server di uscita non è il caso di registrare utenti perché naturalmente il server di uscita può essere correlato all'indirizzo della rete internet per sopperire a questo tipo di problema sto lavorando a un altro software che si chiama ntu che quando riceve una connessione che sia in Tor o in internet la rimanda a un altro idem service in modo da rendere non più correlabile l'indirizzo e poi naturalmente si vedrà in futuro domande? potrebbe 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 si farà quello che si può considera che anche utilizzare il protocollo VMAT per essere compatibili è abbastanza semplice perché comunque è una cosa che è firmata dal server che fa appunto il passaggio quindi è facilmente implementabile quindi magari se ne può parlare tranquillamente se non ci sono altre domande l'unica cosa che dico è che c'è la possibilità su Tails di utilizzare questo tipo di server di posta c'è un file che si può scaricare con uno script in python che configura automaticamente una nuova chiave gpg fino a 16384 bit e ti configura cloud mail per essere utilizzato con onion mail in maniera semplice è a terminale un po' macchinoso perché siamo ancora alla prima versione e sono stati aperti circa 17 server su differenti idem service di posta conosciuti poi pare ce ne siano anche altri e l'ultima cosa è che si possono creare diversi tipi di server server che sono in una rete diciamo nascosta e non pubblicano diciamo al mondo la propria esistenza server che comunicano esclusivamente su Tor e non comunicano con internet per scelta oppure server che appunto fanno da passaggio tra internet e Tor e quindi poi ci sono tutte delle configurazioni che si possono scegliere c'è appunto un protocollo di federazione parte da un file di amici trusted che viene fornito all'installazione dopodiché può scegliere se è un server introverso o estroverso cioè rimanere amico di quelli lì oppure diventare amico degli amici degli amici e così via e quindi su questo si scambiano una sorta di manifest in cui ci sono le caratteristiche del server le informazioni e attraverso SSL verificano i certificati poi c'è tutto un discorso che tramite un terzo si riverificano e via dicendo c'è uno script di installazione abbastanza facile che ti dice vuoi settare tutto automaticamente con mutonto oppure vuoi settare a mano se lo vuoi introverso o estroverso di uscita o normale uno si legge le guide che fanno pena perché dovranno essere sicuramente rifatte ma comunque c'è altre domande? beh allora se non ci sono altre domande chiudo qua però corto una cosa una cosa che ho dimenticato di dire è importantissima perché ho stretto appunto il talk al massimo perché mi hanno detto che non c'era tempo quindi l'amministratore di sistema ha un indirizzo sempre quello stabile e può stabilire quanti utenti si possono registrare se il server è aperto perché si possono iscrivere cani e porci oppure no quanti utenti all'ora quanti utenti al giorno oppure può anche decidere che non si iscrive nessuno però può dare un codice e la persona che ha quel codice lo può utilizzare per un'iscrizione esattamente è un codice d'invito e quindi puoi anche stabilire in una rete di persone molto fidate di dare solo quelle determinate login quindi hai anche la possibilità di andare a verificare questi parametri il discorso dei bitcoin potrebbe essere fatto che ti viene restituito un codice e poi tu lo usi per l'iscrizione oppure attraverso le api della control port che ha anche una sua api interna puoi iscrivere l'utente e poi mandare i dati o peggio ancora con il codice d'invito l'utente può mandare un messaggio crittato pgp al server con new user la sua nuova login spazio il codice d'invito corpo del messaggio la propria chiave gpg e il server ti risponderà con un messaggio gpg alla mail che tu gli hai mandato con le impostazioni per la tua nuova casella di posta per dire questa era la versione 1.0 del protocollo vabbè poi si vedrà comunque sono state implementate un sacco di funzioni per ulteriori informazioni c'è il sito onionmail.info che è un colabrodo però le informazioni ci sono e questo è questo è grazie a tutti grazie a tutti Grazie.